Ciao a tutti, fidatevi più di quello che sentite che di quello che pensate. Dentro di noi abbiamo un'intelligenza, un'intelligenza creativa, che è, diciamo, l'intuito, quindi una comunicazione energetica. Spesso questa comunicazione energetica viene, diciamo, come dire, eliminata, viene sovrastata da pensieri, da rimuginare sulle cose. Quando incontro una persona nuova, ad esempio, poi magari inizia a rimuginare, a pensare, come sarà, chi sarà, eccetera, eccetera. Se noi lasciamo libero l'intuito, questa creatività che noi abbiamo, quello che sentiamo, e succede sempre, se ci mettiamo rilassati, tranquilli, abbiamo una sensazione, pensando a una persona. Pensando a una persona, però pensando a una scelta che dobbiamo fare, pensando a un lavoro, che dovremmo magari iniziare o non iniziare. Se ci mettiamo rilassati e portiamo l'attenzione sul tema, avremo una certa percezione. Ognuno ha la sua, c'è qualcuno che sente un peso sullo stomaco, qualcuno che sente una sensazione positiva, qualcuno che visualizza un'immagine. Ognuno ha il suo modo di sviluppare la creatività. Ovviamente questo va allenato e piano piano possiamo affinare, affinare veramente questa capacità, avendo una sorta di codice del sì e codice del no. Codice del sì significa una cosa buona, giusta. Codice del no significa una cosa negativa, sbagliata. E quindi possiamo avere proprio una risposta alle domande, perché è la nostra parte più intuitiva che ci darà le risposte, la nostra parte più profonda, la nostra parte emozionale. Però dobbiamo imparare a sviluppare questa cosa e quindi non sovrastarla col pensiero. Il pensiero, l'eccessiva riflessione corrisponde alla parte più fallimentare di noi stessi. Quindi dobbiamo imparare a sviluppare invece l'intuizione e la capacità intuitiva, che è quello che ci permetterà di raggiungere, come dire, di identificare bene ciò che è veramente buono e giusto e importante per noi. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!